Nell'ambito dell'iniziativa Maggio dei Libri, la Biblioteca Comunale di Canicattì ha tenuto questa mattina un incontro con l'autore. La lezione a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole secondarie di primo grado si è svolta a Palazzo Stella ed ha visto la partecipazione di Salvatore Lavalle con la presentazione del libro La Sicilia e i Siciliani. Non è il solito libro di storia ma è una via di mezzo tra un testo storico, un reportage giornalistico e una guida turistica. Cioè parlo del passato ma con chiari riferimenti al presente e con molte curiosità alla fine di ogni capitolo. Il libro è disponibile per tutti, oggi quale taglio sta dando con ragazzi delle scuole? Il taglio è chiaramente divulgativo, cioè il testo è molto scorrevole, semplice per cui espongo tutto in maniera facilmente leggibile e comprensibile. Ma la caratteristica, la cosa di cui vado a fare in questo libro è che non è solo testo ma ci sono più di 110 fotografie a colori che ho fatto io, più altre illustrazioni, quindi complessivamente 150 immagini che sicuramente attirano e incuriosiscono il lettore che ha voglia di apprendere, di sapere e di vedere le zone vicino a noi. Maggio dei Libri, giunto alla sesta edizione, è patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Oggi abbiamo la presentazione, il primo, degli incontri con l'autore, con il dottor Lavalle che si ripeterà il 26 però nel pomeriggio ed è aperta tutta la cittadinanza. Di seguito abbiamo una data da destinare ancora, un incontro con il professor Falsone di Campobello sui mosaici in cui verranno proiettati un DVD in cui farà vedere i mosaici, quelli stessi realizzati a Campobello. Concluderemo l'iniziativa con un recital del Piccolo Teatro Perandelliano con il direttore artistico Lian Rocco che si terrà presso la sala del teatro sociale.